we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi we are the champion finalmente dopo ore ore che provavo a fare la missione di cercare i forzieri nelle rapide rischiose come vedete ragazzi siamo rimasti solamente all'ultima sfida della settimana 7 quella di cercare la stellina della mappa del tesoro trovata a parco pacifico ovviamente il video l'ho già fatto ragazzi l'avete già visto in 2 o 3 mila persone ma io voglio sbloccare assieme a voi lo spacca tutto e fare una reaction appunto visto che sono 7 settimane che lo sto aspettando come sappiamo tutti ragazzi la stellina della settimana si trova proprio qui in questo in questo piccolo pezzo di montagna sopraelevato rispetto alla montagna che sta sotto ci prendiamo la stella completiamo le missioni della settimana numero 7 e sblocchiamo lo spacca tutto ragazzi che non vedo l'ora di farlo guarda balla anche da quando non vedo l'ora come balla come cos'è quella mossa qua cos'è quella mossa qua rialza il braccio vai che andiamo facciamo quella classica dai che andiamo dai che andiamo che non vedo l'ora che partiamo pochi secondi ci distanziano ragazzi dallo sbloccare lo spacca tutto lo so che l'avete già visto io non l'ho ancora l'ho intravisto l'ho intravisto ma non l'ho ancora visto bene quindi non vedo l'ora di sbloccarlo fuoizza 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 che voglio andare giù di prepotenza verso la montagna di pinna con i pendenti una volta che sono andato la stella mi sono rubato mi faccio ammazzareareare dai che andiamo 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 attention please attention please yes c'è da dire ragazzi che le missioni di questa settimana per quello che sembravano che tutte le missioni facili le missioni facili le banane al contrario ragazzi voglio vederti a te a prendere sette forzieri a rapide rischiose ti 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 viene voglia di trapanarti direttamente la baletta sinistra porca miseria allora intanto andiamo sopra in mezzo ai due pini dovrebbe esserci la stella forza giriamo intorno di prepotenza non vedo l'ora di recuperarla non c'è la stella ho sbagliato montagna porca di quella porca ho sbagliato la montagna andiamo a prenderla ma come si fa a sbagliare la montagna sei veramente un montagnolo sei vai a prendere la stella nella montagna corretta per cortesia per cortesia vai nella montagna ma ti sembra che sono l'emozione 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 voglio sbloccare lo spacca tutto voglio sbloccare forza 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 adesso io non so già cosa succede guarda eh ma porca 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 dammi per favore del materiale devo sbloccare assolutamente quel cacchio di stella prendi della pietra prendi della pietra recupera la pietra come se fossi pietro recupera la pietra presto dai attenzione ci siamo è lì è lì è lì è lì che mi aspetta è lì che mi aspetta giuro che se mi killano porca miseria porca dai saliamo su per la gola per la gola della montagna rientra come la vedo brutta passare pinnacoli così come facciamo oh raga io devo prendere la stella lasciatemi stare vi prego giuro che non faccio del male a nessuno lasciatemi stare ma raga vi chiedo veramente scudo però non si può non si può dai che non mi vede nessuno dai che non mi vede nessuno per favore la stella la stella si abbiamo recuperato la stella ammazziamoci oh quando ti vuoi ammazzare non ti riesci mai ad ammazzare ma ti sei sparami sparami ok perfetto ragazzi ci siamo ci siamo ci siamo attenzione 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 pass battaglia ha salito di livello raggiunto il livello 97 del pass battaglia non è stato sbloccato non è sbloccato il teschio con le maracas armadietto guarda qua guarda qua ho sbloccato lo spacchino voglio prima vedere il teschietto veramente pessimo per essere livello 97 prima il backpack prima il backpack porca vacca porca porca vacca porca era il backpack dello spaccatutto non era il bag ma do voglio vedere lo spaccatutto surgulu ce l'abbiamo ce l'abbiamo papapà papapà dadadadadada tada grande vediamo questo spaccatutto basta ballare stai fermo abbiamo anche sonbry abbiamo anche cosa della settimana numero numero 7 poi cercheremo di capire dov'è la stella segretta ma in realtà me l'hanno detto quindi lo so nooo stai male fammi vedere lo spaccaguardo abbiamo lo spaccaguardo con la chitarra lo spacca tutto con la chitarra si grande sapevo che si poteva cambiarle addirittura la faccia raga cioè armadietto spacca tutto modifica cos'è lo spacca tutto che sorride mi fa ridere cos'è sta roba ma sono bruttissime queste facce raga sono orrendi ma anche quella che ride è orrenda non lo so questo spacca tutto ragazzi non lo so non è brutto eh non è brutto è strano è strano non è brutto ma è strano voi io ragazzi ci tenevo tantissimo a condividere con voi questo mio momento importante di questa carriera di fortnite sbloccare lo spacca tutto che in realtà è chiamato il visitatore quindi attenzione intenzioni sconosciute dice la descrizione vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video e vi faccio salutare con un bel colpo di chitarra un bel like iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live ciao 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 ciao